I consiglieri comunali di opposizione, Antony Leone e Antonio Di Nino del gruppo Pratola Innanzitutto, Pratola Soprattutto, hanno redatto un dossier sul degrado in alcune zone di Pratola Peligna, sottoponendola all'attenzione del sindaco, della giunta, del gruppo di maggioranza Vivere Pratola e anche dell'altro gruppo di opposizione Libera Pratola. Le zone in questione sono il rione Terra, dove lo spazio verde è lasciato in totale abbandono, c'è la mancanza totale della pulizia dei vicoli interni e la presenza di ratti provenienti dalle numerose case abbandonate. La zona Pep 1 e la zona Pep 2, in tutte le aree verdi fanno presente Leone e Di Nino e presente erbaccia alta e secca, segno di totale abbandono. Nello specifico, nella zona Pep 1, in piazza Leonardo da Vinci, la scalinata adiacente riversa in uno stato a dir poco pietoso. Via Tagliamento, l'area pubblica è piena di erbacce e immondizie e c'è la presenza di ratti e serpenti provenienti dalla stessa area. L'impianto sportivo polivalente di Via dei Fiumi, l'area è lasciata in totale abbandono e decadimento, nonostante l'ordinanza di chiusura dello stesso impianto, non viene rispettata. L'area, infatti, viene comunque frequentata da ragazzi, i quali, dato lo stato dei fatti, potrebbero andare incontro a gravi infortuni per la presenza di ratti e serpenti provenienti dalla stessa area. Il mulino celestiniano in Via Trieste è lasciato chiuso e completamente trascurato, con segni evidenti di degrado. Il parcheggio via Perprezza, il parcheggio che, seppur vitale per i residenti della zona, versa in uno stato di totale abbandono. Inoltre, dallo stesso, è possibile accedere alla struttura inagibile Exitis. L'area verde è di Piazza Indipendenza, c'è la presenza di erbaccia alta e secca, segno di totale abbandono. Le aree verdi adiacenti il casello autostradale. Il biglietto da visita di chi viene o transita a Prato-la-Peligna, scrivono Leone e Dinino, è in uno stato di totale abbandono. Le aree verdi sono contraddistinte da erbacce alte e secche. Il parcheggio adiacente è pieno di immondizia. Le aree citate, proseguono Leone e Dinino, sono solo alcune delle zone di Pratola che versano in uno stato di degrado. Siamo certi, concludono, che l'amministrazione prenderà in considerazione la nostra segnalazione, soprattutto per ripristinare il dovuto decoro alle aree verdi di Pratola, come repentinamente non ha esitato nei mesi scorsi ad aumentare il prelievo impositivo nei confronti dei cittadini attraverso l'Imu, l'Irpef e la Tarso.